Buonasera, la polizia di Sanremo sta indagando sulla rapina messa a segno ieri pomeriggio in via Pietragosti, a danno di una tabaccaia rimasta anche ferita dal bandito armato di cutter. Il bottino è di 6.000 euro, in particolare in un servizio. Rapinata nel pomeriggio di ieri una tabaccheria al civico 170 di via Pietragosti, a Sanremo. Pare che un uomo, con il volto travisato da un casco integrale ed armato di cutter, sia entrato nel locale aggredendo la titolare che in quel momento si trovava da sola dietro al bancone. Il malvivente le ha intimato di stare zitta, ma la reazione avuta dalla donna le è costata una ferita col taglierino alla gola. L'uomo si è fatto consegnare i soldi, alcune migliaia di euro, ed è fuggito via a bordo di uno scooter. La signora è subito uscita fuori dalla rivendita, ma del ladro ormai nessuna traccia si era allontanato, sembra appunto in sella ad un motorino di colore scuro. Il personale della pubblica assistenza emergenza Riviera, che si trova a pochi metri di distanza, ha subito prestato un primo soccorso alla donna, che oltre ad essere molto spaventata, presentava anche una ferita al collo. I poliziotti giunti sul posto hanno raccolto le prime testimonianze, mentre la titolare della tabaccheria è stata ascoltata nel tentativo di cogliere ulteriori indizi sul rapinatore. Gli investigatori giunti presso la tabaccheria hanno messo insieme qualche elemento utile. Gli inquirenti dovranno ricostruire un identikit del malvivente, ma non sarà facile in quanto aveva il volto coperto dal casco. Non è nemmeno escluso che possa trattarsi di uno straniero, sembra che la visiera fosse aperta e qualcosa potrebbe essere stato visto. Via Pietragosti è un quartiere multietnico ed ora in molti chiedono più protezione da parte delle forze dell'ordine. Tutti gli altri esercenti confinanti alla tabaccheria sono rimasti scioccati per la crudeltà in cui è stata compiuta la rapina, in pieno giorno poi, e senza che nessuno si sia accorto di nulla. Gli agenti di polizia ora visioneranno le immagini delle telecamere presenti nella zona, con la speranza di riuscire a cogliere ulteriori elementi per risalire al bandito che sarebbe anche di corporatura robusta. I carabinieri di Sanremo hanno tratto in arresto un 28enne responsabile dei reati di tentata violazione di domicilio, minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Si tratta di un 28enne già noto alle forze dell'ordine che, decisamente alterato, cercava di sfondare la porta d'ingresso di un'abitazione ed inveiva contro una ragazza. Si ha chiesto spiegazioni circa il suo comportamento, quest'ultimo si è rivolto in modo aggressivo e minaccioso nei confronti dei militari dell'arma, insultandoli e rifiutando il controllo ed opponendo resistenza ai carabinieri. Inevitabilmente sono scattate le manette e i polsi dei giovani che, in escandescenza, ha continuato ad inveire e minacciare i carabinieri. Giudicato per direttissima, è stato condotto presso la casa circondariale di Imperia. Una motovedetta della Capitaneria di Porto nel febbraio scorso era rimasta incagliata in zona Tre Ponti a Sanremo. Ora il comando provinciale ha formulato la richiesta per i danni al comune che ammontano a 50.000 euro. La dica sofforta, si legge nella motivazione, non era segnalata da Boe e quindi rappresentava una minaccia per la navigazione. Lo scorso 23 febbraio la motovedetta della Capitaneria di Porto era finita sugli scogli. in zona Tre Ponti a Sanremo. Ora è scattata l'istanza di danni al comune Matuziano. L'imbarcazione, durante un servizio di controllo, aveva urtato contro la barriera soffolta davanti alla spiaggia. L'incidente occorso alla motovedetta della Guardia Costiera si era verificato nell'ambito di un'operazione di ricerca di una donna che si riteneva dispersa in mare. La motovedetta stava procedendo al largo delle spiagge tra Bussana e appunto i Tre Ponti. Aveva colpito così la diga soffolta, costruita innanzi al litorale, proprio per salvaguardarlo. L'esistenza dello sbaramento era conosciuto in Capitaneria. Infatti era stato approvato un piano di lavoro del comune per la sua realizzazione. L'urto aveva procurato danni al motore del natante e l'equipaggio di servizio a bordo della motovedetta, per evitarne altri, aveva azzardato di raggiungere la riva dei Tre Ponti finendo intrappolata contro alcuni scogli sommersi a pochi metri dalla riva. Ci sono volute ore e ore di lavoro per recuperare la motovedetta. Si era reso necessario il contributo dei sommozzatori. Per liberarla dagli scogli le manovre erano state piuttosto complicate. La richiesta dei danni, partita dal comando provinciale della Capitaneria di Porto al Comune, poiché viene sopportato il fatto che la diga soffolta non era sufficientemente segnalata da Boe, come avrebbe dovuto, e che quindi rappresentava una minaccia per la navigazione. L'importo dei danni è pari a 50.000 euro. L'ufficio legale del comune ha inviato la pratica all'assicurazione per la chiusura della questione. Un giovane italiano di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile d'Imperia, a seguito dei controlli avviati ieri e proseguiti per tutta la notte, finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'arma gli hanno trovato addosso circa 10 grammi di marijuana divisa in dosi ed occultata all'interno di numerosi strati di cellofan. Ora si trova agli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Sul territorio provinciale sono stati recentemente riscontrati due episodi di molestie a sfondo sessuale nei confronti di giovani donne e con le stesse modalità. Il responsabile, la cui identificazione è in corso da parte della Polizia di Stato, è solito avvicinare le sue vittime nell'androne dei palazzi e con uno stratagemma attenta a un approccio sessuale. La Procura e la Polizia di Stato stanno verificando se sono stati compiuti altri comportamenti analoghi. Ogni utile informazione potrà essere comunicata direttamente alla Procura o agli uffici della Polizia di Stato che stanno conducendo le indagini. Per il processo alla svolta che si tiene in tribunale ad Imperia nelle prossime udienze sono attese speciali misure di sicurezza per la prima settimana di maggio quando è prevista appunto la testimonianza di Gianni Cretarola al processo contro l'Andrangheta nel ponente Ligure. L'uomo oggi collaboratore di giustizia fu condannato per l'omicidio di Daniele Delfino ed è in carcere per un altro omicidio a Roma. Cretarola sarà sentito perché secondo l'accusa potrebbe portare nuove prove al processo. Cambiamo argomento. Primo confronto. Ieri pomeriggio nella Sala degli Specchi in Comune a Sanremo tra i candidati a sindaco della Città dei Fiori la tavola rotonda è stata organizzata dalla cooperativa sociale L'Ancora. Sentiamo il presidente del suo dalizio sociale Marco Boeri. Ieri pomeriggio presso la Sala degli Specchi di Palazzo Belvù a Sanremo i candidati a sindaco per la Città dei Fiori per la prima volta si sono confrontati per parlare di politiche sociali e rispondere alle tante domande a loro rivolte. La tavola rotonda è stata organizzata dal Centro di Solidarietà all'Ancora nell'ambito degli eventi organizzati per il trentennale di attività. Sono intervenuti quindi Francesca Antonelli per Sanremo attiva, Paola Arrigoni, Movimento 5 Stelle, Alberto Biancheri, Sanremo al centro, Gianni Berrino, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Sanremesi, Antonio Bissolotti, nuovo centro-destra e Davide Oddo, ricostruiamo Sanremo. Assente invece il candidato Gianluca Covatta, rinasce Sanremo. Perché avete convocato questa assemblea con tutti i candidati a sindaco? Perché ci sembrava un'occasione importante questa delle elezioni amministrative a Sanremo per porre l'attenzione anche sul sociale che come tutti i settori sta vivendo un momento di difficoltà ma che a farne le spese poi sono sempre le persone più deboli e quindi che hanno bisogno di maggiore attenzione in media e quindi abbiamo pensato di convocare i candidati sindaci per sensibilizzarli su questi temi e sentire anche le loro posizioni. Sono infatti diversi i temi con la quale confrontarsi? Ma certo, ci sono tutte le varie tipologie di problemi che sono dall'infanzia all'adolescenza, agli adulti, gli stranieri, gli anziani. Ci sono veramente tanti i temi di cui trattare, però ci sembra importante che nella programmazione rientri un'attenzione particolare per il sociale anche perché credo che possa essere una risorsa se viene superata la logica a volte assistenzialistica che si è adottata in passato e magari coinvolgendo, per affrontare problemi complessi penso che ci sia bisogno di sinergie più che di arroccamenti. Quindi è importante che gli amministratori abbiano delle buone capacità di coinvolgimento di tutte le realtà che possano dare il loro contributo e poi possano svolgere un importante ruolo di regia nella gestione di queste funzioni. Priorità ce ne sono? Sicuramente dal punto di vista, dal punto di osservazione nostro come ancora direi soprattutto due e quindi il lavoro perché non c'è percorso riabilitativo che può sperare di avere successo se non c'è poi una possibilità di autonomia, di indipendenza lavorativa e poi il discorso dei giovani. Io credo che ci sia molto bisogno di riflettere su spazi, energie, risorse per aiutare i giovani a svolgere bene il loro ruolo e di superare i loro compiti di sviluppo, come li chiamiamo noi in gergo in modo equilibrato perché notiamo che ci sono molte sacche di disagio, di difficoltà anche molto più mascherate rispetto al passato. Secondo lei le passate amministrazioni hanno avuto un buon rapporto con voi, come si comportano? Sì, come rapporto direi ottimo, il problema è sempre poi il discorso delle risorse, allora io credo che sia importante costituire dei tavoli di riflessione comune sul quale valutare insieme come è più efficace spendere dei soldi e per la fine si tratta di questo, perché magari ci sono interventi che si sono sempre fatti ma che si potrebbero anche ripensare e rendere più efficaci o rendere meno onerosi eventualmente. Quindi credo che sia importante dare tempo di riflessione comune sentendo anche chi lavora sul campo ma ci mancherebbe anche chi poi gestisce la partita. Cosa vi aspettate adesso da questo incontro? Direi soprattutto un'attenzione su questi temi, io credo che sia importante che chi si candida a amministrare una città come Sanremo abbia nel cuore anche un'attenzione per i più deboli e non soltanto per cose sicuramente importanti come il commercio, il turismo, ci mancherebbe. Anzi, magari coinvolgendo le realtà operanti nel territorio anche su questi temi, nel loro piccolo, perché comunque ci sono delle possibilità che non sono del tutto sfruttate, quali ad esempio quello di inserire delle clausole sociali nelle gare di appalto per approvvigionamento di servizi in cui il sociale può dare il suo piccolo contributo e al tempo stesso avere il beneficio di posti di lavoro anche temporanei ma comunque importanti. Grida d'allarme della Confartigianato che alla vigilia delle elezioni amministrative lancia un appello ai candidati affinché pongano il rilancio produttivo tra le priorità assolute del proprio programma. I vari dati economici, come il rapporto statistico della regione Liguria, fotografano una situazione economica in provincia di Imperia sempre più dammatica, in particolare i non servizi. Emblematico è l'andamento delle attività artigiane, dove quelle che cessano sono quasi il triplo di quelle che aprono. A fronte delle 507 nuove imprese artigiane iscritte, infatti, 1.358 hanno chiuso la propria attività. Un rapporto nettamente negativo che non ha eguali anche all'interno della stessa Liguria, con la provincia di Imperia, che si pone come la peggiore di tutte le altre. A Savona le nuove aziende sono 633, contro le 904 chiuse a Genova, 1.525 rispetto a 1.805. e alla Spezia le aperture sono invece 448 a fronte di 663 chiusure. Servono quindi immediati interventi urgenti per far uscire il nostro territorio da questa situazione. Sono improcrastinabili i provvedimenti di rilancio del territorio con interventi concreti ed immediati, ha detto il presidente vicario della Confartigianato di Imperia, Mario Tiberti. Alla base deve esserci una semplificazione burocratica che riesca a sciogliere tutti quei nodi che invece che agevolare stanno ostacolando le attività produttive ed un alleggerimento del fisco che soffoca le imprese. Un ruolo importante lo possono avere anche le amministrazioni locali, come appunto il Comune, che possono mettere in atto tutti gli strumenti di propria competenza per diminuire la pressione fiscale, e creare condizioni di rilancio con conseguenti risultati a beneficio di tutto il territorio. Bisogna che si capisca, ha poi concluso Tiberti, che il sistema impresa, che a volte viene addirittura visto come sinonimo di furberia ed evasione, è invece una ricchezza per tutto il territorio, sotto il profilo economico ma anche sociale. In tutto questo la Confartigianato si è sempre battuta, stimolando le amministrazioni pubbliche, sottolineando e combattendo errori d'azione ed aiutando le imprese e fiaccandole nel proprio cammino. E parliamo di economia. Il no profit cresce come forza sociale, economica e traina per l'occupazione femminile. Quanto fotografa il nono censimento dell'Istat, il servizio di ADN Kronos. Il non profit è un settore in controtendenza. L'occupazione cresce del 40% in 10 anni, conta 681.000 dipendenti, di questi il 72% è donna. Anche le istituzioni hanno registrato un aumento a due cifre del 28%, sono oltre 300.000. Per non parlare dell'esercito di volontari, arrivata a quota 4.700.000. Sono i principali risultati del nono censimento generale delle istituzioni non profit dell'Istat. La fotografa è una realtà veramente positiva, di grande slancio e tendenza, in questo periodo di crisi così profonda. Quello che è non meno importante è che una crescita di questo genere rafforza la coesione sociale, rafforza il sentimento di fiducia di un cittadino verso gli altri cittadini e quindi non solo la crescita economica, la crescita occupazionale, che pure sono fatti fondamentali, ma anche la crescita emotiva, sociale, che è non meno importante. Il governo ha intenzione di promuovere questo settore che rappresenta un asset non solo economico, ma anche sociale per i paesi. I dati ci confermano una situazione in crescita, ci confermano una grande presenza di giovani, ci confermano una grande attenzione e un grande dinamismo di questo mondo. E naturalmente per noi questo significa avere un'opportunità. Io credo che ci sia un cambiamento di ottica, che per quello che riguarda il governo, noi abbiamo intenzione di promuovere attraverso le nostre politiche. Il rapporto dell'Istat è stato apprezzato da Pietro Barberi, portavoce del forum del terzo settore. Credo davvero che il valore del censimento dell'Istat sia già una questione in sé. Il fatto che l'Istat decida di fare un monitoraggio complessivo di tutte le attività del terzo settore, volontariato, associazionismo di promozione sociale, cooperazione sociale, eccetera, è un valore importante perché restituisce informazioni, dati, opportunità di conoscenza. Il censimento rappresenta dunque una fotografia completa di questa forza economica e associativa che mette al centro la persona. Un settore dinamico che si rivela un traino per l'occupazione femminile e offre opportunità anche ai giovani. La provincia d'Imperio e la regione Liguria chiedono al Ministero della Finanza e dell'Interno di intervenire con un'apposita normativa d'urgenza che impedisca l'applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del patto di stabilità interno. La richiesta è stata avviata con una lettera firmata dal Presidente della provincia Luigi Sappa e dal Presidente della regione Liguria Claudio Borlando ed inviata a Roma. La presentazione del Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stata al centro di un incontro presieduto dal Prefetto Fiammaspena che si è svolto nella Sala dei Comuni del Palazzo del Governo. L'elaborazione del Piano è stata condivisa nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura e costituito dalle Forze dell'Ordine, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoc e dall'ASL, nonché partecipata preventivamente agli enti interessati e l'associazione di volontariato. Il documento presentato contiene l'insieme delle procedure di intervento attivabili qualora le circostanze della scomparsa comportino la necessità di effettuare immediati interventi per la ricerca. Una particolare centralità, ha sottolineato il Prefetto, è costituita dal nucleo familiare in ragione dell'imprescindibile contributo che può apportare alla migliore riuscita delle attività di ricerca e all'acquisizione delle informazioni relativi alla personalità e alle abitudini dello scomparso. Il capo della squadra mobile d'Imperia, Massimiliano Russo, lascia il capoluogo per trasferirsi a Napoli. Arrivato a fine giugno del 2012, Russo, che aveva diretto prima la mobile della città di Catanzaro, era arrivato per sostituire Alessandro Carbeli. Martedì prossimo al comando della squadra mobile arriverà Giuseppe Lodeserto, che fino a pochi giorni fa ha lavorato al commissariato di Carrara. Ci fermiamo un istante, tra poco. Dopo due anni di assenza il Giro d'Italia di ciclismo torna in Liguria, accadrà il prossimo 21 maggio nell'undicesima tappa da Collecchio a Savona. Un'occasione di visibilità e di promozione sia della costa che dall'entroterra. In servizio. Una tappa del Giro d'Italia lunga 250 chilometri, che dalla Val di Vara scende nel Tigulio, in riviera di Levante, raggiunge Genova per proseguire con un sorprendente finale a Savona. Tutto questo accadrà il prossimo 21 maggio nell'undicesima frazione della Corsa Rosa. La tappa si snoderà sul territorio Ligure dal passo delle Centocroci verso Varese Ligure, scendendo poi a Casarza Ligure, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Genova, Arenzano e Varazze. È previsto un primo ingresso a Savona e via Paleocapa verso via Santuario per il secondo Gran Premio della Montagna sul Naso di Gatto. Poi Altare e giù a Lavagnola per ritornare nuovamente in centro a Savona al traguardo posto in corso Tardi e Benec. Il villaggio del Giro d'Italia a Collecchio sarà allestito lungo il viale Sandro Pertini. Il ritorno della Corsa Rosa in Liguria, dopo due anni, rappresenta un'occasione formidabile per valorizzare il territorio, dalla costa all'entroterra, con i centri urbani ed i borghi dell'interno. La Collecchio Savona sarà inoltre, con i suoi 250 chilometri, la tappa più lunga di tutto il Giro d'Italia. Un motivo di curiosità e quindi di visibilità in più. Visita di cortesia di Mitchell Wolfson Jr. a Palazzo Civico d'Imperia a ricevere il noto collezionista d'arte statunitense, uomo d'affare e filantropo fondatore del Wolfhonsian Museum a Miami Beach in Florida e a Genova Nervi. Presso la sala consigliare il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Strescino, ad accompagnare Wolfson, editore francese Gallimand, e la signora Isabella Ippolito, delegata dal Consolato degli Stati Uniti d'America di Genova. La signora Wolfson Jr. potrebbe fungere da viatico per instaurare futuri rapporti di collaborazione con la nostra città. Dopo la pausa invernale, la domenica di Pasqua, torna il mercatino delle meraviglie a Molini di Prelà. Sono previste 16 date, la prima e la terza domenica di ogni mese. La novità del nuovo calendario è che il mercatino diventerà itinerante trasferendosi in alcune date alle feste dei paesi limitrofi, come accadrà per la festa di tavole o la festa delle castagne di pantasina. Come nelle precedenti stagioni, ci saranno espositori di usata, antichità, curiosità, artigianato, arte e prodotti locali. Gli orari restano invariati, dalle 10 alle 20 in primavera e autunno, e dalle 10 alle 24 in estate. Nuovo appuntamento culturale a Ponte d'Assio, capoluogo della Valle Impero, domani alle 17 a Palazzo Agnesi. Sarà presentato infatti il libro Ponte d'Assio, il castello, il borgo, le ville del professor Luciano Livio Calzamiglia. Fischia il vento a Felice Cascione e il canto dei ribelli. Questo è il titolo del libro di Donatella Alfonso. Il volume sarà presentato martedì prossimo alle 17.30 nella Biblioteca Civica d'Imperia, in piazza De Amicis. Ora ci copiamo di Autofiori e Quadrometeo. E come previsto dalla Carta dei Servizi, in occasione delle festività pasquali, e quest'anno in concomitanza anche con il ponte del 25 aprile, i cantieri sull'autostrada De Fiori, quelli programmati nel tratto Savona, confine di Stato, saranno sospesi da giovedì 17 a domenica 27 aprile compresi. Vediamo il quadrometeo di Arpa al metodo Liguria, con le previsioni di domani, sabato 19 aprile. Nelle prime ore, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio temporale, con bassa probabilità di allocare fenomeni forti. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali. Nel pomeriggio, possibili residui, precipitazioni e schiarite sempre più ampie. Temperature in temporaneo calo sul centro ponente. Umidità su valori alti. I venti in rapida intensificazione e rotazione da nord a nord-est, in particolare tra Genova e Savona, dove saranno possibili raffiche fino a Burrasca. Il lento calo e rotazione da nord-ovest nel pomeriggio. Il mare in ulteriore aumento fino a mosso o molto mosso sotto costa agitato a largo, in calo dal pomeriggio. Dopodomani, domenica 20 aprile, nuvolosità variabile con ampie schiarite nel corso della giornata. I locali addensamente nei bassi strati. Possibili deboli e locali precipitazioni più probabili nell'ultima parte della giornata. Umidità su valori medio-alti. I venti deboli con locali rinforzi, in prevalenza da nord a nord-est, contemporanei rotazioni dei quadranti meridionali. Il mare in ulteriore calo fino a poco mosso. Nessuna segnalazione di protezione civile. Il nostro giornale si chiude qui, come sempre l'apportamento alle prossime edizioni, se volete sul nostro sito imperietv.it. Grazie dell'ascolto, buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.